Se il futuro societario è nel segno dell'incertezza, ancora in bilico tra le speranze di ripescaggio in Serie C e la certezza dell'iscrizione alla prossima Serie D, sulla panchina del Fogge affissa in bella vista la scritta lavori in corso. Nini Corda, allenatore in sella nella scorsa stagione, sarà il nuovo direttore tecnico e sta già muovendo i primi passi per valutare il nome di chi guiderà il club rosso-nero la prossima stagione al suo posto. Un nome nuovo conduce direttamente a Zemanlandia e alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta risponde al nome di Vincenzo Cangelosi, storico vice allenatore di Zdenek Zeman che tornerebbe in Puglia dopo nove anni. 56 anni, Cangelosi è stato portiere del Foggia di Zeman nell'annata 86-87, diventando nel tempo uomo di fiducia del mister di Praga e suo vice allenatore a partire dal 1989. Ora si sente pronto per la sua prima esperienza su una panchina da titolare e la chiamata potrebbe arrivare proprio dal suo vecchio Foggia. Di Zeman Cangelosi ha ereditato il credo tattico con il 4-3-3 come marchio di fabbrica, la gestione interna dello spogliatoio e quella maniacale degli allenamenti. La decisione del Foggia sarà presa probabilmente solo una volta che sarà più chiaro il quadro dei ripescaggi, ma Cangelosi sembra la prima scelta, più defilati, nomi che si rincorrono da giorni come quello di Sandro Pokesci, contattato nelle scorse settimane ma che al momento riscontra una divergenza di vedute rispetto ai piani societari, e di Vincenzo Maiuri che piace per il suo brillante campionato con il Sorrento nel girone H di Serie D, ma sarebbe un'incognita in C. Grazie. Grazie.